Peppe Scognamiglio, ti chiedo di alzarti un attimo e ti chiedo la gentilezza di parlare con il microfono gelato. Perfetto, grazie mille. Peppe è della cooperativa Siani di Libera, siamo felici di avermi qui. Grazie a voi, sarò veramente velocissimo anche perché si sta dicendo davvero tanto. Siamo qui per tutto quello che si sta dicendo stamattina perché c'è bisogno di unire le forze, di fare squadra, di fare rete oggi più che mai, di coniugare il nostro impegno, i nostri lavori, tutelare le nostre libertà, tutelare i nostri diritti. Non entro nel merito dei tanti discorsi che si sono fatti, voglio solo provare a dirvi velocemente che anche dal mondo dell'antimafia questi problemi sono dentro nel cuore di quella parte di società. Perché se ne potrebbe parlare davvero tanto e credo che troveremo il modo di farlo, del retaggio culturale del sud, di quelle famiglie che sono costrette a far prostituire i propri figli, i propri bambini di cui si citava prima. O molto spesso obbligano a prostituirsi. Ma ci sono tante storie, ci sono le storie di mamma Matilde, mamma Coraggio che è stata ammazzata per aver denunciato gli scempi e gli stupri di quei bambini rinchiusi in una scuola. Ci sono le storie di Lea Garofalo, di una ragazza proveniente da una famiglia di indrangheta che ha deciso di ribellarsi, di uscire da quel contesto familiare e che è stata ammazzata. Ci sono le storie come quelle di Peppino Impastato che ha denunciato la propria famiglia, ha rinnegato suo padre perché era un mafioso, perché lui amava la libertà, perché lui amava l'amore, perché lui si batteva per i diritti dei propri cittadini, della libertà, dei diritti delle proprie terre, di quel sud molto spesso abbandonato. Siamo qua per ricordare tutto questo e per portare questa battaglia avanti insieme a voi perché siamo stanchi di sentire la puzza delle violenze, dei sopprusi. Siamo davvero stanchi. Beh, come ci insegna Martin Luther King, un'ingiustizia da qualche parte, una minaccia alla giustizia ovunque. Io credo che oggi, questa mattina, possiamo gridare che è un diritto negato da qualche parte, un diritto negato all'intero mondo, all'intera Italia. Guardate, è evidente che siamo quasi al baratro, è evidente l'oscurantismo, il buio dove stiamo andando. Io credo che oggi più che mai noi dobbiamo riprendere insieme questo cammino, superare certi retaggi, certi ostacoli, perché se siamo qui stamattina è perché c'è proprio quell'amore che ci lega, è quell'amore che noi dobbiamo andare a gridare, è quell'amore la nostra energia, la nostra unione e la nostra forza. Grazie.